Il nostro obiettivo era quello di fare bella figura, anche domani vogliamo chiudere in bellezza questa prestigiosa tournée perché abbiamo bisogno che si parla del Milan e che il Milan ritorna, anche se sono partite amiche oggi, ma che torna a parlare di sé e provare a giocare a Bari con le più forti squadre in Europa. Perciò faremo di tutto per giocare, ripetere prestazioni, cercando di migliorare, anche se sarà difficile, ma provare anche a vincere perché si può anche vincere. Per quanto riguarda noi, noi cerchiamo e cercheremo sempre, dipendentemente dall'avversario, di fare il nostro gioco. Abbiamo i nostri principi su quali stiamo lavorando e cercheremo sempre di metterli in pratica. Possiamo adattarci percentuale, magari 20-30% dall'avversario, ma altro dobbiamo cercare sempre di fare la partita. Sappiamo che Reale è forte, che sono anche più avanti noi in preparazione e sicuramente io mi aspetto a partite domani con ferme, ma anche in miglioramenti perché vogliamo migliorare da partita per partita. Guardo la prestazione, anche se è risultato comunque importante perché ti dà fiducia, ma in questo momento guardo la prestazione, cercando sempre di capire cosa è meglio e dove si deve migliorare. Mi aspetto a un'altra grande prova da punto di vista caratteriale, perché come ho detto, noi siamo Milano, dobbiamo sempre dare il massimo e dobbiamo sempre uscire dal campo con testa alta, con sapere di dare l'alto massimo. Poi se l'avversario sarà più forte di noi, gli faremo complimenti, però dobbiamo cercare sempre di giocare per vincere e di fare la nostra partita.